Ciao, sono Uri di ToneTube e benvenuti a un nuovo video. Oggi ascoltiamo questo pedale, il Lilian di Walrus Audio, un phaser analogico. Prima di iniziare voglio ricordarvi di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanella in modo di ricevere una notifica ogni volta che c'è un video, fare like se vi piacciono i miei video e venite a trovarmi anche su Instagram Uri Baranes Guitar Studio. Adesso buona apertura. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Nel Lilian troviamo una grande quantità di controlli, più di un phaser normale e questo ci permette di scolpire il suono esattamente come l'abbiamo in testa. Innanzitutto abbiamo questo switch che ci permette di selezionare una modulazione a 4 o a 6 stadi. 4 stadi di stampo veramente vintage, 6 stadi di stampo veramente più moderno. Infine abbiamo i classici controlli Rate, Width e Feedback. Ossia Rate è la velocità dell'oscillatore, Width è l'ampiezza dell'oscillazione e Feedback è la quantità di segnale shiftato che viene rimandato ai filtri. La chiara del pedale è in questo potenziometro DPV, ossia Dry Phaser Vibrato. Possiamo quindi selezionare con questo potenziometro la quantità di segnale che vogliamo effettare e ruotandolo completamente a destra abbiamo anche un vibrato. Basta quelle parole, passiamo a Looper e riconosciamo meglio questo Lilian di Wolgus Audio. Grazie a tutti. 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 Una aviatrice che fu arruolata durante la seconda guerra mondiale e riuscì a scattare delle foto del proprio servizio, all'epoca non era propriamente legale, a testimonianza del fatto che le donne, esattamente come gli uomini, possono fare tutto. Quindi, anche un piccolo messaggio all'interno di questo phaser. È tutto per oggi, spero che questo video vi sia piaciuto, come il video, se sì, fate like al video e vi lascio il link in descrizione di Walrus Audio. Noi ci vediamo presto, non scordatevi, non scordatevi e non scordatevi di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanella e venite anche su Instagram, uribaranesguitastudio. Ciao!